è un gol che nasce dall'insegnità dei difensori perfetto il calcio di punizione il gol era nell'aria e puntualmente è arrivato un'altra fantastica traiettoria di Cristiano Ronaldo sui calci piazzati le traiettorie di Cristiano Ronaldo sono difficili da leggere e qui ovviamente rivediamo tutto la regia si ripropone il gol da un'altra angolazione